La Regione deve essere in prima fila nella lotta a quel che è un'autentica barbarie, la pratica delle dimissioni in bianco, che coinvolge soprattutto le donne in maternità. A sostenerlo è il capogruppo di Selle in Consiglio regionale Giannino Romaniello, aggiungendo che ciò può avvenire limitatamente alle competenze della Regione, ovvero su aziende appaltatrici di servizi all'ente e su imprese che ricevono a livello regionale benefici come finanziamenti diretti, agevolazioni, garanzie summutui per gli investimenti. Sarebbe opportuno, continua il consigliere, che le eventuali dimissioni di una lavoratrice o di un lavoratore siano firmate davanti ad un ufficiale pubblico. Nel caso di mancata ottemperanza, aggiunge, l'azienda dovrebbe vedersi revocato l'appalto o il finanziamento di cui ha beneficiato. Un problema che nasce, afferma Romaniello, a seguito della soppressione della legge 188, rendendo difficile il rapporto fra lavoro e maternità. SELPD, DV, la CGL e il Movimento Se Non Ora Quando hanno indetto una raccolta di firme per chiedere il ripristino della norma abolita.